Ebbene carissimi amici, ben ritrovati ancora qui sul mio canale YouTube. La previsione lotto gratis a colpo secco, previsione davvero imbattibile, ha centrato ancora nell'estrazione di giovedì 13 la vincita del 52 secco a Bari e nell'estrazione di martedì 11 ha centrato il 39 in seconda posizione alla nazionale. Quindi veramente qualcosa di fenomenale, una previsione fenomeno, è qualcosa di incredibile perché queste vincite sono di valore in quanto sono previsioni a colpo. Un'ambata, anche un estratto determinato, sono vincite di valore. Quindi mi raccomando a questa previsione, prendetela tutti perché qui prendiamo un sacco di soddisfazioni mensili, ambate, estratti determinati, ambisecchi. Attenzione, giocheremo 4 ambibarie nazionali con le due ambate. Modalità vincita venuta, pagamento soltanto se uscirà l'ambo a ruota. Vi do una nuova previsione dopo ogni estrazione da giocare a colpo. È una previsione da prendere, da avere assolutamente. In due estrazioni consecutivi ci sono messi in tasca già un estratto e un estratto determinato. E altre ambate sono arrivate a colpo nelle estrazioni precedenti in questo mese di ottobre. Sta andando fortissimo. È una previsione che sta andando fortissimo. Da quando l'ho presentata, dal mese di agosto, sta andando fortissimo. 3-4-8-7-5-4-7-7-1-5 per avere la previsione in modalità vincita avvenuta. Quindi mi raccomando, le due bellissime vincite dell'ambosecco ve le ricordo. 51-15 a Bari 4 agosto e 53-39 nazionale il 3 settembre. Mi aspetto anche l'ambo nel mese di ottobre. Speriamo bene perché stanno uscendo un sacco di ambate. Quindi speriamo che arrivi anche in questo mese l'ambo secco. Ma è una previsione da tenere in gioco ogni mese perché è una forza della natura. È qualcosa di incredibile. C'è uno studio dietro che è veramente pazzesco. Dovete averla. Dovete averla e giocarla a colpo. Giocate con dei numeri di grande valore. Quindi mi raccomando. Per adesso un saluto a tutti. Mister Sbancolotto.